Oggi parliamo di Bido, il figlio di Albano e Loredana Lecciso. Mentre sua sorella Jasmine Carrisi è spesso sotto i riflettori, Bido, il più giovane dei figli del celebre cantante pugliese, preferisce una vita lontana dalla ribalta. Nato nel 2002, Albano Junior, conosciuto in famiglia come Bido, ha 21 anni e sta seguendo un percorso diverso rispetto alla sorella Jasmine, che sta facendo carriera nel mondo della musica e dello spettacolo. Bido, infatti, ha scelto di studiare economia all'università con l'obiettivo di occuparsi della grande tenuta del padre a Cellino San Marco. In una recente intervista al Corriere della Sera ha rivelato di voler ereditare dal padre la voglia di fare e la dedizione ai progetti. A differenza della sorella Jasmine, molto attiva sui social, Bido mantiene un profilo basso, con un account Instagram privato. Ha dichiarato di non aver mai sofferto per l'attenzione mediatica, apprezzando la disponibilità del padre verso tutti. Un ragazzo riservato ma determinato, che guarda al futuro con ambizione e concretezza.